Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è giovedì 27 gennaio 2011 e questa piccola tv pubblica trasmette il programma intitolato Sionismo and Martin Luther King. Direte voi, ma questa piccola tv privata di Serafino Massoni c'è sempre qualche novità da trasmette a noi giovani. Dio quante cose che ci insegna questa piccola tv pubblica di Serafino Massoni. Ieri per esempio questa piccola tv pubblica di Serafino Massoni ha trasmesso il video Io Gad Lerner, intitolato Io Gad Lerner, dove Serafino Massoni ci ha insegnato che l'autore di Gomorra, l'autore di Gomorra, che noi giovani lo idolatriamo e famo bene a idolatrarlo, Roberto Saviano, lo idolatriamo perché è il simbolo dell'antica Morra, ha scritto un romanzo intitolato Gomorra, poi la casa editrice di Silvio Berlusconi, La Medusa, mi pare, mi pare, ci ha fatto pure un bel film dal romanzo di Gomorra, il romanzo di Roberto Saviano, è il simbolo dell'antica Morra, addirittura lo Stato lo protegge e fa bene a proteggerlo, fa bene, ma non ci viene a dire questa piccola tv pubblica di Serafino Massoni nel video intitolato Io Gad Lerner, non ci viene a dire che Roberto Saviano è il nostro idolo, giustamente il nostro idolo, idolo giustamente, perché la camorra non è una cosa simpatica neanche l'antrangheta, neanche la mafia, neanche la sacra corona unita, ci viene a dire che Roberto Saviano è filo israeliano, ci viene a rovinare i nostri sogni Serafino Massoni, con la sua piccola tv pubblica, che sconvolge tutte le nostre idee, il nostro credo tanto pacifico e tranquillo, ma la poteva lasciar perdere, no? Serafino Massoni di venirci a dire che Roberto Saviano è un filo israeliano, che noi ce l'avemo a morte con gli israeliani, noi siamo tutti filo palestinesi e se uno ci viene a dire che Roberto Saviano, che è il simbolo dell'eroe che combatte contro la mala vita, anziché essere filo palestinesi, è filo israeliano, noi non sappiamo più che fare a questo mondo, non sappiamo più che fare a questo mondo, sì sì ci siamo andati a informare su web, sì sì è vero, quello che dice la piccola tv pubblica di Serafino Massoni è proprio vero, solo che a noi mica ce le raccontano certe cose, i giornali, le tv, uno deve per forza andare a sentire i video di Serafino Massoni per sapere come stanno le cose a questo mondo e così Serafino Massoni ci ha detto chiaro e tonto che Roberto Saviano, che è l'eroe italiano dell'antica morra, è filo israeliano, voleva andare ad abitare in Israele e prendere la cittadinanza israeliana e gliela stavano per un filo, gliel'hanno già offerta, gli israeliani li possino, gli israeliani li possino e lui adesso comunque voleva andare là perché si era stufato di stare qua in Italia con la scorta, voleva un po' di libertà, la libertà Roberto Saviano mica andata a cercarla da Hamas, mica andata a cercarla dove ci stanno i palestinesi, lo possino, ma no, andata a cercarla dove ci stanno gli israeliani, quei puzzoni colonialisti degli israeliani, chissà perché uno, una persona così per bene come Roberto Saviano, una persona così per bene è filo israeliana e ce lo dice chiaro e tonto Serafino Massoni nella sua piccola tv privata nel video intitolato Io Gart Lerner beh, e adesso eccoci qua, eccoci qua cari amici che ne tiriamo fuori un'altra, ne tiriamo questa piccola tv pubblica, ne tira fuori un'altra e ho già scritto da qualche parte, ti ha orecchie per intendere, intenda, a buon intenditor poche parole, ok, ok, allora adesso facciamo un discorso serio e siccome in questi giorni c'è la ricorrenza della Shoah che fu quella cosa orrenda, orrenda che avvenne nel corso della seconda guerra mondiale e anche qualche anno prima, e quella cosa orrenda è consistita nell'eliminare dall'Europa 6 milioni di ebrei nelle camere a gas, capito? Io ci ho fatto il video intitolato l'eresia nazista e per completare un altro video intitolato l'eresia sovietica e nel video intitolato l'eresia nazista io scrissi che lo scopo del nazismo era quello, cioè lo scopo dei sovietici era quello di eliminare la proprietà privata e non ci sono riusciti, l'ho spiegato nel video l'eresia sovietica, ma lo scopo invece dei nazisti era ancora più radicale, se i sovietici si limitavano a voler eliminare la proprietà privata, socializzando i beni di produzioni, l'URSS è stato in piedi 70 anni, però alla fine abbiamo visto come sono andate le cose, l'accordo, e Serafino Massoni ve l'ha spiegato nel video l'eresia sovietica, invece lo scopo dei nazisti era ancora più radicale, loro i nazisti non è che si limitavano a voler eliminare la proprietà privata, loro volevano addirittura eliminare coloro che l'avevano inventata la proprietà privata, cioè gli ebrei, io l'ho sempre detto, con rispetto parlando per tutti, se c'è la bomba atomica ce la prendiamo, dobbiamo crocificare quelli che l'hanno inventata la bomba atomica, non mi pare che ancora siano stati crocifissi quelli che hanno inventato la bomba atomica, non mi pare, e così la proprietà privata l'hanno inventata gli ebrei, perché la legittimazione più forte che noi si abbia dalla proprietà privata l'abbiamo nei dieci comandamenti, mosaici di Mosè, che risalgono nel 1340-1330 avanti Cristo, infatti c'è scritto nei dieci comandamenti, c'è scritto non rubare, se c'è scritto non rubare vuol dire che c'è la proprietà privata, cioè Dio dice, poi c'è scritto anche non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri, e beh se Dio, il Dio Yahweh, avesse voluto che l'umanità non ce l'avesse la proprietà privata, nei dieci comandamenti ci avrebbe messo un comandamento che suonava così, non farti la proprietà privata, no no no, invece Yahweh l'ha legittimata con tutta la sua potenza divina, l'ha legittimata la proprietà privata, ordinando non rubare, non desiderare la roba d'altri, e se un Dio dice non desiderare la roba d'altri vuol dire che giustifica il fatto che gli altri aprono la roba e che io agli altri la roba non gliela debba rubare, capito, c'è pure la donna, è pure la donna, e i nazisti dice, noi nazisti ma noi andiamo al di là dei sovietici, i sovietici dice, si sono limitati a eliminare, si sono limitati nel tentativo di eliminare la proprietà privata, ma noi nazisti andiamo al di là, noi eliminiamo addirittura quelli che l'hanno creata la proprietà privata, capito, e così il problema lo risolviamo alla radice, se non che Hitler è nazismo, poveretti, non gli è andata bene, perché loro si erano dimenticati che è vero che l'Europa è la piena d'ebrei, è la piena d'ebrei d'Europa, ci sono i miei romanzi, c'è il mio romanzo per esempio, bello, quello che io preferisco, intitolato Il marinaio delle Antille, dove proprio scrivo che a Vienna, la Vienna del grande impero austro-ungalico, c'aveva la metà della popolazione ebraica, quasi a Vienna c'erano più ebrei che cristiani, l'Europa centro-orientale curulava gli ebrei, però Hitler credeva che gli ebrei stavano solo in Europa e si era dimenticato che c'erano gli ebrei, vabbè, nell'impero britannico che stava al di là della manica la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, pieno, 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 così, gli Stati Uniti, pieno, 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 e loro dicevano noi eliminiamo gli ebrei, però hanno eliminato solo gli ebrei dell'Europa, non hanno eliminato tutti gli altri ebrei e tutti gli altri ebrei che hanno fatto hanno finanziato la guerra anglo-americana contro Hitler, e alla fine Hitler, sì, ha eliminato 6 milioni di ebrei, però ha perso la guerra e la Germania è stata divisa. Quante volte ho detto che il povero Hitler ha fatto quel grande sbaglio di mettersi contro gli ebrei, perché gli ebrei facevano parte della grande Germania, avevano combattuto da eroi nella prima guerra mondiale per la Germania, ma cosa ti vai a mettere Hitler contro gli ebrei? Se tu stavi, talleavi con gli ebrei, eri tu Hitler che la vincevi la seconda guerra mondiale, perché erano gli ebrei che hanno inventato tutte le armi e che poi hanno usato gli anglo-americani, quelli che non hai ammazzato le hai fatti scappare via, le hai fatti scappare. Quante volte che ve lo dico ai ragazzi, i ragazzi, i quali mi dicono, mi dicono, ma gli anglo-americani hanno vinto perché c'erano delle armi superiori, e sì, ma le armi superiori gliel'avevano inventato gli ebrei, gli ebrei che fuggiti via dalla Germania, in primis Albert Einstein e tanti altri. Allora, siccome il Terzo Reich, Germania, Austria, Italia, no, l'Italia no, era alleata, e siccome i tedeschi e gli italiani hanno perso la seconda guerra mondiale, che in pratica era una guerra di esterminio contro gli ebrei, i sopravvissuti, che sono i nostri padri e anche oggi sono i ragazzi in giro, non si danno pace, non si danno pace, non potendo continuare a parlare male degli ebrei, che t'hanno inventato? Non t'hanno inventato che si deve distinguere tra ebreo buono? Cioè, un ebreo buono sarebbe Gad Lerner, per esempio, Gad Lerner, su quale Gad Nerler, questa piccola tv pubblica di Serafino Massoni, proprio ieri, ha fatto il video, io Gad Lerner. Allora, hanno inventato coloro che ce l'hanno a morte con gli ebrei, io non ho mai capito per cui non ce l'hanno a morte con gli ebrei, d'accordo? Perché siamo ebrei pure noi, siamo ebrei pure noi cristiani, anche noi cristiani abbiamo preso i dici comandamenti dalla religione ebraica, pari pari, ebbene non siamo ebrei, eppure noi cristiani abbiamo il comandamento non rubare, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri, ce l'avevo pari 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 pari, ce l'abbiamo con gli ebrei, proprio non ho mai capito per quale motivo noi cristiani dobbiamo avercela con gli ebrei, tra l'altro anche gli islamici non possono avercela con gli ebrei, perché pure gli islamici hanno copiato dagli ebrei i dici comandamenti i mosaici, perché ce l'hanno tutti questi dici comandamenti, ce l'hanno gli ebrei, e poi dagli ebrei sono stati copiati dai cristiani e dagli islamici, i dici comandamenti ce l'abbiamo pure noi cristiani, i cattolici, anche i cattolici, e dici comandamenti ce l'abbiamo con gli ebrei allora che hanno inventato? Che cosa hanno inventato? Che cosa hanno inventato? Quelli che ce l'hanno a morte con gli ebrei, e ripeto io non lo capisco, perché uno deve avere a morte con gli ebrei hanno inventato che gli ebrei appunto si dividono in ebrei buoni e in ebrei cattivi gli ebrei buoni sono quelli, diciamo, alla Gatlerner, quelli che stanno un po' di qua un po' di là, non sai mai da che parte stanno, ed è stato spiegato bene ieri nel video che sta su questo splendido canale intitolato io Gatlerner, e Gatlerner su questo canale ha spiegato le sue contraddizioni, che so contraddizioni che so grosse come l'universo ci sono gli ebrei buoni, e poi ci sono gli ebrei cattivi chi sono gli ebrei cattivi? I sionisti, li hanno chiamati i sionisti quindi uno per legittimare se stesso a parlare male degli ebrei, non parla più genericamente degli ebrei, ma si rivolge a quella parte degli ebrei cattivi che sono stati chiamati sionisti che sarebbero quelli che sono colonialisti perché hanno fondato un impero colonale sterminato ma che impero che c'hanno gli israeliani, era come quello di Carlo V d'Asburgo dove sull'impero di Carlo V d'Asburgo non tramontava mai il sole, non tramontava ma voi chissà per chi, gli italiani sono pure alleati di quegli infamoni di americani, ha un'importanza che qua noi ragazzi portiamo tutti i blue jeans ci mettiamo dei nomi inglesi e americani, suoniamo la jazz, no, non conta niente infamoni siamo tutti quanti americanizzati però ci ripuliamo, ci ripuliamo e la nostra stirpe infamoni e allora ci sono gli ebrei cattivi, i sionisti allora la questione del sionismo adesso ve la spiega questa piccola tv pubblica guai se non ci fosse a questo mondo questa piccola tv pubblica che vi chiarisce le menti, che vi apre le menti cari ragazzi voi lo sapete vero chi era Martin Luther King? è vero che era una persona buona? tra l'altro è un nero era un discendente di quelli che erano stati schiavi, schiavizzati è vero che gli volete bene a Martin Luther King? ebbene, se Raffino Massoni vi rivela cosa diceva Martin Luther King? relativamente agli ebrei e ai sionisti ve lo leggo queste sono parole precise di Martin Luther King e poi se non ci vedete andate a digitare sul web Martin Luther King e il sionismo se poi non trovate questa frase io non so che dirvi non so che dirvi comunque la frase di questa qua ve la leggo ecco cosa diceva Martin Luther King tu dichiari amico mio di non odiare gli ebrei di essere semplicemente anti-sionista tu dichiari di essere semplicemente anti-sionista non ce l'hai con gli ebrei ce l'hai soltanto con i sionisti e io dico Martin Luther King risponde a questo amico eventuale e io dico quando qualcuno attacca il sionismo intende gli ebrei e che cos'è l'anti-sionismo? è negare al popolo ebraico un diritto fondamentale che rivendichiamo giustamente per la gente dell'Africa e neri e accordiamo senza riserve alle altre nazioni del globo cioè dichiararsi anti-sionisti vuol dire negare gli ebrei di avere una patria cioè di negare gli ebrei quella cosa che riconosciamo per tutti per tutti gli abitanti dell'Africa e anche per gli stessi tutti gli abitanti del nostro pianeta e c'è da anti-sionisti anti-sionisti state attenti alle vostre interne contraddizioni dice Martin Luther King non si scappa eh è una discriminazione nei confronti degli ebrei per il fatto stesso che sono ebrei amico mio e queste parole cari amici non sono le parole di un imperialista ma sono le parole di Martin Luther King che le scrisse nel 1967 subito dopo la guerra dei sei giorni la guerra dei sei giorni che è stata enfatizzata come un episodio imperiale sionista subito dopo questa guerra Martin Luther King anziché stramaledire gli israeliani per la guerra dei sei giorni andò a spiegare che cosa si intende veramente per anti-sionismo cioè l'anti-sionisto l'anti-sionista è un anti-ebreo un anti-ebraico un anti-ebraico mascherato mascherato siccome dopo la sconfitta del terzo Reich nella seconda guerra mondiale nessuno più può dire chiaro e tondo io ce l'ho a morte con gli ebrei allora quelli che non possono più dire io ce l'ho a morte con gli ebrei dicono io ce l'ho ce l'ho con i sionisti con quegli sporcazioni dei sionisti ce l'ho ecco andatevelo a prendere con Martin Luther King adesso perché questo canale questa piccola tv pubblica di Seratino Massoni serve a aprire aprite le menti aprite le menti aprite capito aprite le menti vi fa scoppiare in mano le vostre contraddizioni capito andatevelo a prendere con Martin Luther King ti basta la frase che vi ho detto andatevelo a prendere con Martin Luther King io lo so anche voi volete bene a Martin Luther King che è un democratico eccetera eccetera un nero eccetera andatevelo a prendere con Martin Luther King che vi ha chiarito chiarito sin dal 1900 1967 qual è il vero significato la portata dell'antisionismo dentro dietro la parola antisionismo si nascondono tutti coloro che chissà perché odiano gli ebrei però non possono più dire io ce l'ho con gli ebrei perché e perché la politica antiebraica è stata sconfitta dalle armate anglo-americane allora si vergognano si vergognano e e loro dicono io sono antisionista capito Dio la malafede che la malafede che ne ha parlato tanto tanto a lungo il grande Friedrich Nietzsche in quel capolavoro che è genealogia della morale genealogia della malafede la nostra malafede che facciamo schifo che siamo pieni di contraddizioni e neanche ce ne accorgiamo che adoriamo Roberto Saviano per essere l'autore di Gomorra per essere colui che attacca Silvio Berlusconi ma facciamo finta di non sapere che egli è un filo israeliano non è un filo palestinese è un filo israeliano ma questo piccolo canale pubblico di Serafino Massoni le contraddizioni ve le fa scoppiare in mano capito come avviene a quelli che la notte di Capodanno si fanno scoppiare in mano i pedardi e poi perdono le mani perdono capito le contraddizioni tutte saltano fuori da questo canale cari amici e adesso questo questo piccola tv pubblica di Serafino Massoni ve l'ha detto vi ha rettondo che cosa si nasconde dietro la parola sionismo sionismo e antifionismo perché l'antisionista si sente pulito io io non sono contro gli ebrei buoni io sono contro gli ebrei cattivi capito e l'ha spiegato Martin Luther King come stanno le cose andatevelo a prendere con Martin Luther King adesso andatevelo a prendere che l'ha detto chiaro e tondo che cosa si nasconde psicologicamente parlando dietro la parola antisionismo antisionismo e l'ha detto nel 1967 subito dopo la guerra dai sei giorni andatevelo a prendere con Martin Luther King adesso andatevelo a prendere con Roberto Saviano che è filo israeliano non è filo palestinese andatevelo a prendere con Roberto Saviano cerchiamo di capire come mai Roberto Saviano filo palestinese filo israeliano israeliano cioè che sta con gli ebrei cattivi Roberto Saviano e Karl Lerner che è un ebreo che vuol fare l'ebreo buono come mai si siano messi contro un governo tramite il ministro Angiolino Alfano intende introdurre in Italia nel 2011 il reato di negazionismo perché ciò che avvenne tra il 39 e il 45 nei campi di concentramento è di una tale mostruosità che molti molti che erano filonazisti o filofascisti e si rifiutano che ciò sia avvenuto la loro mente rifiuta tale orrore e per cui ci sono i negazionismi e nasce il negazionismo ma non è vero ma non è vero saranno stati 100 200 mila quelli che sono stati eliminati e poi manco è vero che sono stati eliminati nelle gambe da gas tutte balle in benedizione negazione ma in Austria in Germania in Francia in Belgio che sono nazioni di tutto rispetto tutto sommato sul piano democratico la Germania è democratica l'Austria è democratica la Francia è democratica il Belgio è democratico ce l'hanno già da tanto tempo la norma che ti manda in galera se tu dici che la Shoah non c'è stata adesso lo facciamo anche in Italia ma a questo non ci hanno mai pensato i governi di centrosinistra ci sta pensando il governo di centrodestra di quel cattivone di Silvio Berlusconi capito? e Angiolino Alfano ha detto che entro il 2011 anche in Italia come in Austria in Germania in Francia in Belgio negare la Shoah sarà un reato che ti porta dritto dritto in galera e beh certamente e tutto ciò e si rifà tutto sommato anche alla nostra Costituzione va bene che nasce che nasce proprio tutta improntata contro il nazifascismo d'accordo? allora cari amici cari amici mi raccomando con le contraddizioni il messaggio che io vi mando è che la realtà che sta di fronte a voi ha tante facce ha tante facce non basta conoscerne una sola cari amici bisogna sapere che le facce della realtà che noi dobbiamo conoscere sono tante e più ne conosciamo noi delle facce della realtà e più ci avviciniamo alla verità lo dico tra virgolette verità perché la verità è irraggiungibile perché non saremo mai capaci di conoscere tutte le facce della verità ma almeno ci si avvicina avvicina cioè più elementi di giudizio abbiamo e meno siamo schiavi dei pregiudizi e più ci avviciniamo ai giudizi ti invito a riflettere sul fatto che il grande Roberto Saviano simbolo supremo in Italia dell'antica morra è filo israeliano filo israeliano allora sta bomba sto petardo nelle vostre mani cosa ci facciamo gli vogliamo ancora bene a Roberto Saviano dopo che abbiamo saputo con matematica e certezza che egli è un filo israeliano che non è filo palestinese gli vogliamo ancora bene e se gli vogliamo ancora bene a Roberto Saviano anche dopo che abbiamo saputo che egli è un filo israeliano dobbiamo anche rispettare coloro che sono filo israeliani perché se è filo israeliano quel galantuomo di Roberto Saviano e non si vede perché non ci possano essere tanti altri filo israeliani galantuomini come Roberto Saviano d'accordo? E Martin Luther King Dio come quanto era grande quest'uomo cari amici quanto era grande quest'uomo per aver scritto nel 1967 subito dopo la guerra dei sei giorni ha scritto tu dichiari amico mio di non odiare gli ebrei di essere semplicemente antisionista e io ti rispondo quando qualcuno attacca il sionismo intende gli ebrei e che cos'è l'antisionismo? è negare al popolo ebraico un diritto fondamentale che rivendichiamo giustamente per la gente dell'Africa e accordiamo senza riserve alle altre nazioni del globo l'antisionismo è una discriminazione nei confronti degli ebrei per il fatto che sono ebrei amico mio pensiero parole di Martin Luther King espresse nel 1967 dopo la fine della guerra dei sei giorni ok? mi raccomando cari ragazzi e ricordate che in fondo in fondo il patriarcato nel quale viviamo che è diventato il capitalismo è fatto di ideologia ebraica è fatto dei dieci comandamenti mosaici ma i dici comandamenti mosaici ce l'abbiamo pure noi cristiani ce l'hanno pure gli islamici capito? c'era un grande scrittore italiano un siciliano non ricordo bene che disse non ricordo bene se fu uno scrittore un romanziere un filosofo non ricordo disse si è così noi noi non possiamo non sentirci cristiani ma no ma no ma no lui doveva scrivere noi doveva scrivere noi non possiamo non sentirci ebrei e si gli ebrei hanno inventato il patriarcado e l'ho già detto l'ho già detto nella nella in tanti video video l'ideologia ebraica il video gli illuminati poi il video longa il longa video e summa patriarcale ho già detto e vabbè ma cosa vogliamo farci? la storia umana è andata così e così come ci dobbiamo tenere la bomba atomica che è stata inventata la bomba atomica e ce la teniamo e così ci dobbiamo tenere il patriarcato e io ve l'ho già spiegato tante volte in che consiste questo canale questo canale consiste che si basa su questo romanzo storico mitologico la stirpa del serpente nel farvi capire che il patriarcato nasce dal matriarcato nel farvi capire tutte le contraddizioni del patriarcato nel rivelarvi che il patriarcato non è più reversibile ci hanno provato con l'Ursa 70 anni non ci sono riusciti adesso anche a Cuba Fidel Castro sta privatizzando tutto e ha tolto persino quel famoso assegno di disoccupazione perenne che faceva la felicità dei cubani adesso Fidel Castro suo fratello hanno detto no l'assegno di disoccupazione ve lo tenete al massimo per tre mesi o per sei mesi poi andate a lavorare e lo perdete l'assegno di disoccupazione e se non trovate il lavoro andate a mangiare la Caritas perché io dico che la Caritas ci sia pure a Cuba penso che siano cristiano cattolici i cubani ecco cari amici vi sto dicendo che cos'è il patriarcato come nasce il patriarcato che viviamo il patriarcato vi sto spiegando le contraddizioni del patriarcato in maniera che conoscere le contraddizioni del patriarcato serve ad essere meno infelici però in fondo in fondo noi siamo tutti ebrei perché siamo tutti attaccati alla proprietà privata capito tutti siamo attaccati alla proprietà privata e termino questo video invitandovi a andare a visionare il mio video intitolato se io fossi il premier dove vi spiego chiaro e chiaro e tondo che siamo tutti attaccati alla proprietà privata ma pure Nichi Vendola è attaccato alla proprietà privata ma per quale motivo mai Nichi Vendola si deve prendere per fare il governatore della regione Puglia si deve prendere 150 mila euro l'anno e invece un operaio metalmeccanico lì di Mirafiori lì di quella zona del Napoletano si deve prendere invece 20 mila euro l'anno ma per quale motivo anche Nichi Vendola è attaccato alla proprietà privata pure Tonino di Pietro anche Tonino di Pietro siamo tutti attaccati alla proprietà privata e coloro che la contestano è perché ce n'hanno poca è perché ce n'hanno poca vorrebbero prendere quella dagli altri ma si sono dimenticati del comandamento ebraico cristiano non rubare e non desiderare la roba ad altri cari amici comunque il mio messaggio politico lo trovate nel mio video intitolato se io fossi il premier comunque questo canale cari amici questa piccola tv pubblica ha la funzione di mettere nelle vostre mani i pedardi della contraddizione in modo che voi capiate le contraddizioni dell'aria pensate a Roberto Saviano che è filo israeliano non è filo palestinese eppure è l'idolo dell'antica morra che facciamo lo spacchiamo a metà Roberto Saviano la metà ci va bene l'altra metà non ci va più bene e pensiamo a Martin Luther King a quello che ha detto Martin Luther King della famosa parola antisionista io sono antisionista io divido gli ebrei gli ebrei buoni e quali io voglio bene gli ebrei cattivi che sono i sionisti e loro non vogliono bene invece Martin Luther King ha fatto chiarezza ha fatto chiarezza ma chi è che ve le dice mai queste cose se non questa piccola tv pubblica le contraddizioni che so come i pedardi che a Napoli si fanno scoppiare la notte di Capodanno e tanti perdono le mani bisogna imparare a vedere le contraddizioni cari amici va bene cari grazie se mi avete ascoltato mi raccomando quando avete terminato di vedere questo video per favore andate a vedere il mio video intitolato se io fossi il premier chiaro grazie e tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti